il genere umano non merita di essere salvato per tutti loro io sono solo un mercenario uno scarto della società mi hanno dato la caccia per anni finché un giorno hanno capito che in un mondo come questo la differenza la fa chi non ha paura di sporcarsi le mani io ho imparato che potevo trovare quello che avevo sempre cercato peccato che quello è stato il giorno in cui sono morto devi fare una consegna che tipo di carico una ragazza deve arrivare a new york tra sei giorni sta attento è speciale lei è un assassino signor durop sì il peggiore ora entri in macchina mi difendo io mi difendo da sola voglio la verità chi è quella ragazza non ti fidi di me vero grazie a tutti